C'erano già stati screzzi anche in passato tra i protagonisti della sparatoria avvenuta domenica sera nel quartiere popolare di Shanghai a Livorno. Alcuni apprezzamenti di troppo nei confronti di una ragazza in una discoteca della città, forse alla presenza del gruppo di nomadi. Sarebbe questo, secondo il racconto del 22enne marocchino vittima dell'attentato, il motivo dell'inseguimento tra due auto e dell'esplosione di un colpo di pistola che sarebbe stato indirizzato all'abitacolo del veicolo. È stato il cittadino marocchino a chiamare per primo il 112 come ricostruisce il tirreno. A bordo dell'altro mezzo invece due 25 anni ed un 13enne macedoni residenti nel rione di Corea. Il minorenne, rimasto incastrato nei sedili posteriori, poi liberato dai vigili del fuoco, è stato accompagnato in ospedale. Mi hanno sparato contro il vetro, poi si sono schiantati a bordo strada, ha raccontato il giovane. Prima, secondo quanto ricostruito, il marocchino sarebbe stato affiancato e forse speronato. I tre hanno cercato di farlo finire fuori dalla carreggiata per farmela pagare, dice, motivo per il quale la fiancata del suo mezzo appare segnata. Poi, contro il palo dell'energia elettrica però, ci sono finiti loro, rischiando di morire insieme al 22enne bersagliato dai presunti spari. Già, presunti, perché la polizia al momento non ha rinvenuto né la pistola né i bossoli sull'asfalto o l'ogiva all'interno dell'abitacolo. Fondamentale sarà però il risultato dell'esame della presenza della polvere da sparo sui vestiti delle persone coinvolte dentro il veicolo, visto che solo così si potrà dissipare il dubbio. Si cercano anche testimoni, per ora non emersi, soprattutto per quanto riguarda la prima parte dell'inseguimento. Due persone invece avrebbero visto la parte finale, quella dell'incidente. Il 22enne, a sporto querela, nei mesi scorsi aveva già denunciato alcuni dei macedoni accusandoli di averlo picchiato, sempre per i presunti apprezzamenti alla ragazza.